Bene, ci troviamo all'ospedale di Piedimonte Matese, dove è stato da poco allestito un nuovo percorso di profilassi per il coronavirus. Cercheremo di raccontarvi in sintesi, quando arriva il paziente, qual è il percorso esatto che fa per andare ad essere poi sottoposto alla visita. Cercheremo di farci raccontare, farci spiegare il percorso dal dottor Daniele Ferrucci, che è il dirigente medico della direzione sanitaria di questo ospedale. Dottore Ferrucci, ci vuole spiegare esattamente, il paziente arriva all'ingresso dell'ospedale con una macchina sua o con un'ambulanza? Che cosa deve fare? O anche a piedi, diciamo che è un percorso ben delimitato. Il paziente arriva, qui c'è il pre-triage, dove troveranno uno o due infermieri, perché adesso il triage si sposta in questo periodo sotto la tenda. Spieghiamo che cos'è il triage. Allora il triage dove il paziente arriva e loro fanno delle prime domande. Si cerca di capire il perché il paziente si sta recando verso il pronto soccorso del nostro nosocopo. Verso l'ospedale, quindi arriva qui a questo punto e entra dentro. Prego il cameraman di entrare, così ci rendiamo conto di come è fatta la struttura che è stata montata dalla protezione civile. L'allestimento è a cura dell'ufficio tecnico del nostro nosocopo, dell'ospedale. Qui troviamo un infermiere, c'è una scheda di pre-triage dove vengono fatte alcune domande specifiche alla persona che si è recato presso il presidio ospedalino. Quindi da questo punto gli operatori che sono qui in questa sorta di dogana, possiamo dire, molto rigida, loro decideranno che cosa fare del paziente. Assolutamente, è importantissimo, nelle domande che faranno al paziente, tant'è vero, stiamo anche valutando che la scheda di pre-triage sia addirittura sottoscritta dal paziente. Perché io qua posso anche dire cose sbagliate o non dire delle verità e posso trovarmi poi in una difficoltà entrando nel pronto soccorso e fare il percorso sbagliato. Allora però c'è un problema poi di inquinamento, quindi stiamo cercando di studiare nel momento in cui il paziente firma in che modo e con che tutela per i lavoratori perché se no si rischia di inquinare anche la scheda che viene sottoscritta. Perché è importante perché se io vengo e dico che non ho febbre, non ho frequentato alcuni tipi di persone, non sono stato a contatto con ambienti che possono essere di sospetto Covid-19. E poi invece dagli esami si evincono altre cose e noi dobbiamo essere tutelati noi, devono essere tutelati anche gli operatori. Abbiamo fatto anche di responsabilità. Allora noi a questo punto simuliamo un paziente che non può andare nel pronto soccorso. Usciamo da questa struttura, grazie a voi, buon lavoro. Loro hanno dei walkie talkie, loro con i walkie talkie adesso avvisano una volta che il paziente è un sospetto Covid. Loro chiamano il medico e il collega nel pronto soccorso e dicono c'è un sospetto Covid e inizia tutto un percorso. Quindi ci spostiamo. Loro aprono, fatti aprire, aprono il pronto soccorso. Quindi qui si entra in pronto soccorso. Noi abbiamo creato un percorso completamente avulso al resto in modo che non si blocca. Se c'è un sospetto Covid, noi comunque l'attività del pronto soccorso continua. Perché noi abbiamo questa caramera calda che è grande, anche se passa un sospetto Covid, comunque è molto areggiato, problemi di inquinamento non ci sono. Ecco qui l'attività del pronto soccorso è ben delineato. Quindi adesso entriamo. Diciamo marcato, percorso speciale, se hai febbre, tossi o sintomi respiratori acuti, entra qui per essere visitato. L'infermiere accompagna il paziente in questa sala. Perfetto. In questa sala che cosa succede? È una sala di osservazione con tutti i presidi necessari, con i gassi medicali e quant'altro. Il paziente si sosta qua. Parte immediatamente l'organizzazione del personale. Il medico con l'infermiere si vanno a vestire. Quindi in una stanza... Con il bagno. Questa era la prima sala che avevamo preposto come pretriaggio prima che mettessimo la tenda. C'era quest'altra sala di pretriaggio che adesso al momento viene sostituita da quella sala nell'ambito della tenda. Quindi questa è una sala appositamente per consentire di vestire gli operatori. Dove qui ci sono i dpi con cuffie e calzari e quant'altro che serve all'operatore sia medico che infermieristico. Qui si veste e praticamente accede a un'altra stanza. A un'altra stanza, quella là che ho fatto vedere prima. Ah ok. E poi viene isolato. Si chiude tutto e gli operatori che sono autorizzati a venire qua è il medico e l'infermiere. E se nel caso c'è bisogno di ulteriore specialità, del cardiologo, del rianimatore e quant'altro, scendono, si vestono come sempre e possono accedere a questo locale. E scatta tutta una serie di procedure, del tampone, se deve essere fatto il tampone, si chiama il 118. Cioè tutta la prassi che serve per continuare l'osservazione di questo paziente. Allora ipotizziamo e non ci auguriamo mai che un paziente deve essere sottoposto al tampone. Che cosa succede? Il 118 provvederà poi al tampone. Quindi lo prende, lo porta, fa il tampone e va al cotugno. Il tampone non si trova qui a Piedimonte ma... No, no, sta all'ospedale di Marcianissi. Però siamo comunque cercando di averli anche noi in modo che avremo una scorta anche noi. Noi siamo avvantaggiati è perché non viene intaccato quello che è il pronto soccorso. Perché qua ovviamente viene chiuso, le porte vengono chiuse e viene automaticamente sigillato tutto. Quindi sono due percorsi separati. Sono due percorsi completamente separati. Quindi se viene un altro pronto soccorso, un altro tipo di attività, continua il suo percorso. E ovviamente ci sarà un po' di difficoltà perché con la barella poi, le barelle per andare negli altri reparti, per fortuna non abbiamo l'uscita qua e un'altra entrata che ci porta nel nosocomio. Perfetto. E quindi abbiamo un percorso a parte. Poi insomma la struttura degli ospedali queste sono. Noi abbiamo cercato tutto lo staff di direzione, con l'ufficio tecnico, con gli operatori. Abbiamo lavorato tutti insieme, una squadra che ha funzionato. E credo che abbiamo dato un percorso il migliore che si potesse dare a tutela degli operatori. Anche perché questo pronto soccorso rimane ad operare per motivi suoi, avulso da tutto quello che accade là dentro. Sono due cose completamente diverse. Si sente di tranquillizzare un po' tutti, almeno dalla situazione, da quello che arriva in ospedale? Ma assolutamente sì. Il percorso è molto garantito. Nessuno è perfetto, per l'amor di Dio. Io credo che c'è una grossa professionalità in questo ospedale. Sono stati formati anche i colleghi medici, sono stati formati anche gli operatori, sia sociosanitari che sanitari. E' normale, quando si andrà poi in attività, sicuramente ci sarà un po' di frassuono, di movimento. Ma sono sicuro che il nostro personale se ne esce alla grande. Grazie direttore. Direttore no, sono un umile e semplice medico di direzione sanitaria e do il mio contributo, come mi viene chiesto dalla direzione e dal direttore sanitario. Benissimo, grazie. È stato molto preciso. Speriamo che con questo riusciamo a tranquillizzare anche un po' la popolazione. Invece volevo sentire il collega vice direttore di Caserta Sera, Emetio Bianchi. Ecco, tu che hai un po' in mano il polso della situazione, Piedimonte ma anche i paesi vicini, qual è secondo te al momento lo stato d'animo? C'è ancora molta paura e meno e più di prima? Noi come giornale abbiamo cercato di tranquillizzare la popolazione di Piedimonte, anche se ultimamente questi nuovi casi, l'aumentare delle persone che purtroppo non ce l'hanno fatta, sta creando un po' di psicosi nella popolazione. Il fatto che i cinesi ci abbiano anche abbandonato qua a Piedimonte la dice tutta. Adesso gli untori siamo definiti noi. Speriamo che la cosa passi al più breve tempo possibile.